Il Tribunale della Libertà di Cosenza ha respinto la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro del depuratore di Sanzago di Tortora avanzata dai legali di Ecologica 2008. Il provvedimento parla di inammissibilità del riesame per carenza di interesse. Pertanto restano i sigilli all'impianto fermato dalla Guardia di Finanza lo scorso 4 dicembre al termine delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Paola in collaborazione con quella di Lago Negro. La decisione del Tribunale Cosentino risale allo scorso 3 gennaio e fa seguito alla rinuncia al riesame presentata il 31 dicembre dall'Avvocato Giuseppe Belvedere. Si tratta di uno stratagemma legale per ottenere tutti gli atti di indagine altrimenti preclusi al difensore della Ecologica 2008. Con il riesame infatti la Procura è tenuta al cosiddetto discovery dell'incartamento. Una mossa insomma funzionale a una nuova istanza di dissequestro che sarà avanzata al Procuratore e al GIP di Paola. Abbiamo massima fiducia nella magistratura paolana, dichiara Belvedere, e la nuova istanza sarà successiva all'instaurazione di un rapporto collaborativo con essa per chiarire al meglio la posizione della ditta. Intanto il sindaco del Comune di Tortora, Pasquale Lamboglia, ha accolto con favore la decisione dello scorso 3 gennaio del Tribunale della Libertà di Cosenza. Quello della Procura ha detto è un provvedimento ponderato e corposo che conferma purtroppo i nostri timori per l'ambiente del fiume Noce e del mare. Non dubitavamo che il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta. Tuttavia, ha aggiunto Lamboglia, non ci fermiamo a questi importanti, ma ancora limitati, passi in avanti. Abbiamo intenzione, ha concluso il primo cittadino tortorese, di costituirci parte civile nella questione Sanzago, a prescindere dal rinviaggiudizio per le persone indagate.